Quando avete voglia di un secondo succulento e profumato, provate il pollo in agrodolce alla siciliana. Otterrete una carne morbida e un sughetto delizioso in cui pucciare la carne stessa o anche il pane. Le verdurine diventeranno dolci e gustose e renderanno questo piatto davvero gradevole. Prendete 4 pezzi di pollo, nel mio caso cosce e sovracosce, 2 cipolle dorate piccole, 2 carote, una costa di sedano, 80 g di aceto bianco, 50 g di acqua, 30 g di zucchero, serviranno per l'agrodolce, e poi 15 g di pinoli, olive a piacere. Ci occupiamo prima di tutto del nostro trito di odori, quindi dobbiamo pulire la cipolla, le carote e la costa di sedano a cui togliere i filamenti con un pelapatate. Tagliamo tutto. Una volta tagliate queste verdurine andiamo subito ai fornelli e scaldiamo un filo d'olio in padella. Aggiungiamo le verdure e lasciamo soffriggere dolcemente per 5 minuti. Nel frattempo in un padellino a parte possiamo inserire il pollo senza aggiungere altri grassi per sigillare la carne. Lo facciamo quindi un po' dorare e colorire su tutti i lati. Adesso spostiamo il pollo nella padella con le verdure. Lo lasciamo insaporire un paio di minuti e intanto prepariamo l'agrodolce. In un bicchiere versiamo l'aceto, aggiungiamo l'acqua e poi lo zucchero. Mescoliamo per sciogliere. A questo punto aggiungiamo la miscela agrodolce al nostro pollo. Lasciamo la fiamma piuttosto alta per consentire a quel sentore di aceto di evaporare un po'. E poi possiamo aggiustare di sale e pepe. Aggiungere le olive, che nel mio caso sono in salamoia fatte in casa. Abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura con il coperchio. Ricordandoci di girare il pollo ogni tanto, fino a quando la sua carne diventerà abbastanza morbida. Sul finire della cottura, se c'è troppo sughetto, possiamo togliere il coperchio per farlo ritirare quanto basta. L'ultimo ingrediente, che non abbiamo ancora aggiunto, sono i pinoli, che possiamo mettere tostandoli precedentemente. In modo che possano dare quella nota croccante. Quando serviamo il pollo, ricordiamo di irrorarlo con qualche cucchiaiata di sughetto, che lo renderà davvero succulento. Un altro consiglio è quello di farlo intiepidire prima di portarlo a tavola. Tutte le pietanze, infatti, che hanno l'agrodolce diventano molto più buone quando riposano. Qualche minuto o perfino qualche ora. E a voi come piace il pollo? Scrivetelo nei commenti. Io vi aspetto anche sui siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.